Buonasera e ben trovati. L'opite di oggi è il dottor Nozaradan e ci spiegherà la dieta dell'acqua che ha fatto. Io la ringrazio molto signor Costanzo per avervi invitato. Questa dieta dell'acqua è un po' esagerata, andiamo. Io non riesco a farla. Lei mi sembra un po' sovrappeso. Con la mia dieta dell'acqua perderebbe 20 kg di peso. Francamente mi sembra una vera tortura. Io ho fatto dimagrire decine e decine di grassoni, concedendo l'acqua frizzante. Ma l'acqua da bevi te? Io mi mangio la pizza e dolce pure. La mia dieta dell'acqua è l'unica in grado di far dimagrire decine. Potrei mangiarmi 18 pizze il giorno dello sgarro, capisce, dottor Popatica? E allora non perderà mai peso, signor Costanzo. Io ho fatto dimagrire gente talmente pesante che quando salivano sulla bilancia appariva, per favore salire uno alla volta. Io ho ricevuto talmente tanti grassoni che Houston pensano di rinominarla Cicciopoli. Ci vuole il polso duro con grassoni abituati a mangiare quintali di merdate al giorno. Sul dizionario alla voce grasso c'è la foto dei miei pazienti, perciò se hanno fame non me ne fotte un cazzo. Vabbè, ora mandiamo i consigli per gli acquisti e mi dica che messaggio vuole mandare. Basta buffarsi e andate a fanculo.